Non è così che i Dupin preparano il pane, fieri discendenti di Pagnotix il gallo. Fornix, io sono Papillon. Sei un uomo assetato di potere. Ti dono la capacità di infliggere punizioni a chiunque non faccia le cose come andrebbero fatte. Oh, ma certo. Posso aprirti un croissant o una baguette in cambio? No, in cambio voglio i Miraculous di Ladybug e Chat Noir. Quei due non sanno come vanno fatte le cose. Occupatene tu. Puoi contare su di me, Papillon. Nonno! Non c'è nessun nonno! Io sono Fornix e chiunque non faccia le cose come andrebbero fatte dovrà vedersela con la mia indovabile collera. Presto Parigi tornerà come era prima che il progresso prendesse il sopravvento. No, no, no! Finiremo la cottura dopo. Gigi, grazie a tutti! Ah! 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 Perché questo autobus non fa rumore? Beh, perché un autobus moderno va a elettricità. Un autobus elettrico? Non è così che si fa! Gli autobus fanno rumore, vanno a benzina ed emettono fumo puzzolente! Sparish, autobus moderno! E tu cosa sei? Adesso a Parigi c'è anche una ragazza insetto! Sì, sono un supereroe. Devi adeguarti ai tempi? Non è così che si fa! È compito della polizia o dell'esercito a far rispettare la legge in città, non tuo! A pochi minuti dall'inaugurazione dell'ultra moderno Star Train, mi è stato comunicato che un super gallo sta creando scompiglio. Libererò Parigi da tutte queste sciocchezze moderne! A partire da te! Beh, tecnicamente io non sono così moderna. Il mio miracolo si risale ai tempi antichi. Beh, quando ero giovane io non c'erano i supereroi. Non ci saranno supereroi nella mia Parigi! Sembra che Ladybug stia inaugurando un nuovo metodo di trasporto aereo. Flag, trasportami! Tranquilla, mi Lady, ci sono qui io. Grazie, Chat Noir, ma non sempre le ragazze hanno bisogno dei ragazzi. Pensi che io sia un tantino l'antica, vero? Oh, c'è chi è peggio di te. Aspetta di incontrare Pornix. Grazie.